Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori fino al 28 febbraio, chiuso in direzione Bologna, il tratto tra Aglio e Roncobilaccio. In A11 per traffico intenso, in direzione Firenze, code tra Sesto e Firenze per Etola, code a tratti tra Pistoia e il video per la 1. Sulla Fipilì in direzione Mare, code in uscita a Santa Croce e a Pisa Nord-Est, code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci in direzione Firenze. A Firenze, per interventi di manutenzione alle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, stasera non saranno funzionanti dalle 22 all'una. I treni, a causa di uno sciopero in programma fino alle 21 di stasera, potranno esserci variazioni, cancellazioni e ritardi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!